Buonasera da Spazio Ripoli in San Severo, ai nostri microfoni Ivan Scalfarotto, Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del PD. Buonasera. Ancora per pochi giorni. Buonasera. L'Italia cambia verso. L'Italia cambia verso. Domenica 8 dicembre ci saranno le fatidiche primarie. Le notizie rimbalzano, giornali, televisioni, Cuperlo, Civati, Renzi. Perché Renzi? Innanzitutto io direi che bisogna andare a votare. Questa è la prima cosa. Perché la partecipazione è fondamentale. Non scegliere comunque una responsabilità, soprattutto in primarie come queste, che stabiliranno la linea politica del PD per i prossimi quattro anni. Sono tre candidature molto interessanti, tre candidature molto diverse. Io sostengo Matteo Renzi e mi auguro che gli elettori lo votino in massa perché penso che noi abbiamo bisogno di un profondo cambiamento. Il centrosinistra in questi ultimi vent'anni è stato molto timido, è stato subordinato al berlusconismo perché anche quando abbiamo governato non abbiamo lasciato un'impronta in questo paese. Siamo stati poco al nostro agio con la modernità. È un paese che va rilanciato, ma va rilanciato con una nuova classe dirigente. Credo che Matteo Renzi abbia la capacità anche di parlare a una parte più ampia del paese che non sia soltanto l'elettorato di centrosinistra super fedele, che però delle volte non è sufficiente a vincere le elezioni. Mi aggancio alla sua risposta. Grillo e Social Network sono andati a coprire una fascia più giovane, tant'è che la percentuale dei deputati è maggiore a quella dei senatori, in riferimento all'età per poter votare nell'una e nell'altra. C'è chi dice che Cuperlo sia figlio del PD mentre Renzi lo usi di sponda per questioni di individualismo. Qual è la sua opinione e merito? Renzi, anche quando l'anno scorso veniva invitato a uscire dal PD e capitalizzare la sua enorme popolarità, non l'ha fatto. I parlamentari che gli sono vicini si sono comportati in modo estremamente disciplinato. Noi abbiamo tenuto la cancellieri, anche se l'avremmo voluta mandare via. Abbiamo votato contro la mozione Giacchetti, contro il Porcellum, anche se l'avevamo firmata e sostenuta. L'abbiamo fatto per disciplina di partito. Renzi, quando ha perso le primarie, si è messo a disposizione. Altri parlano di scissione, quindi credo che se c'è qualcuno che sta nel partito con lealtà, questo è Matteo Renzi. Quanto al 5 Stelle, diciamo, alla gioventù, io penso che l'elettorato italiano sia diventato molto più immobile di un tempo. Prima si votava molto per fedeltà, anche familiare. Oggi si vota se il programma è buono. Penso che questa sia la maggiore forza di Renzi, quello di riuscire a parlare una parte larga del Paese, anche a quelle persone che hanno votato per 5 Stelle. In caso di Vittorio, Renzi sicuramente darà un'impronta nuova a una grossa forza mediatica. Gli viene attribuito anche un eccessivo potere mediatico. In realtà la grande comunicazione è quella che ha fatto anche la fortuna di Berlusconi per 20 anni. Molti parlano di affinità tra i due, ma in realtà la questione è più strettamente legata a quelli che sono i minuti di presenza in televisione e giornali e non a quella che è la corrente politica di appartenenza. Nel caso dovesse vincere Renzi, per lei riuscirebbe veramente a dare una sterzata, un cambiamento in questo italiano che è un gigante di argilla che cade a pezzi. Diciamo una cosa sulla comunicazione. La politica senza comunicazione non serve a niente. Nel senso che se uno ha anche delle eccellenti idee, ma non le sa comunicare, non serve a granché. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale nelle scorse elezioni politiche, nella quale avevamo forse delle idee, ma erano misteriose. Noi abbiamo tirato fuori 8 punti per il governo dopo le elezioni, non durante o prima delle elezioni. La comunicazione è molto importante. È molto importante nella politica italiana, è importante nella politica mondiale. Non aver saputo comunicare è uno dei grandi problemi del PD, è uno dei grandi problemi della sinistra e il fatto che Renzi sappia comunicare è un vantaggio, non è un difetto. In secondo luogo, se io penso che saprà dare una sterzata, Renzi è un uomo di grande coraggio, è un uomo che ha saputo sfidare anche grumi di conservazione di questo paese, che ha saputo dire di no a personaggi molto potenti e molto influenti di questo paese, a destra come a sinistra, è uno che dice le cose che pensa molto direttamente e fa le cose che dice, che in politica non succede molto spesso in Italia. Ultima battuta. Noi stiamo subendo una perdita di sovranità e questo è davanti agli occhi di tutti. E' indubbio non pensare che le regole dettate da Bruxelles vadano ad influire in maniera forte su quelle che sono le scelte della governanza italiana, che sia di destra o di sinistra. Lei pensa che bisogna ristrutturare quella che è l'idea politica dell'Europa o meglio, noi siamo partiti da un'unione monetaria, quando in realtà avremmo dovuto iniziare con un'unione politica? Sì, le cose devono andare insieme, diciamo così. L'unione monetaria da sola non serve, non serve una banca centrale europea che fa un lavoro a metà rispetto anche alla banca centrale americana, però dobbiamo ritornare in un'ottica che dice che l'Europa è la nostra casa, che l'Europa è una grandissima opportunità, che essere parte di un grande mercato di 300 o più milioni di persone, di una grande comunità di 300 o più milioni di persone significa avere una voce in capitolo a livello globale, pensare di ritornare alle piccole patrie, come vorrebbe fare la Lega Nord o come vorrebbe fare 5 Stelle, significa sostanzialmente emarginarsi, diventare una piccola cosa in un mondo così grande, in un mondo globale. Poi è certo, le regole fatte sull'euro, le regole economiche, sono regole che sono state fatte 20 anni fa, quando lo scenario economico era completamente diverso da quello di oggi e vanno probabilmente rinegoziate e per questo serve un'Italia forte, per poter sedersi al tavolo e avere un... Beh, quantomeno avere voce in capitolo, oggi lo siamo così così, certamente il PD non ha contribuito a sufficienza, io penso che un PD più forte, un PD che dice delle cose più nette, potrebbe aiutare anche il governo a essere più efficace. Io sono uno di quelli che pensa che una vittoria di Renzi non indebolisce il governo ma lo rafforza. Per 99TG ringraziamo il vicepresidente Scalfarotto, a voi studio.